Per l'ottavo anno consecutivo l'arcipretura parrocchiale Maria Santissima della provvidenza di Macchia di Giarre guidata da Don Mario Fresta ha allestito nella navata centrale della chiesa l'infiorata in occasione della solennità del Corpus Domini e tradizione infatti spargere un tappeto di fiori sulle strade dove passa la processione eucaristica. A Macchia, così come in altri centri, questi fiori insieme a sabbia e altre essenze diventano dei quadri raffiguranti immagini sacre. In particolare a Macchia il tema dell'infiorata di quest'anno è stata la persecuzione dei cristiani e nei dieci quadri realizzati sono stati raffigurati gli stati in cui i cristiani sono ancora perseguitati. I parrocchiani hanno impiegato due giorni per realizzare l'infiorata su questo speciale tappeto ieri sera è passata la processione eucaristica.